Pagina, numeri da record per il servizio di trasporto pubblico all'interno del Parco Naturale dello Stelvio. Il sistema del bus navetta ha portato un aumento di turisti. Sempre più a piedi o con il bus navetta. L'ingresso e poi la gita all'interno del Parco Naturale dello Stelvio è sempre più green, sempre più verde, ecologico, naturale. Conti alla mano, durante l'estate 72.000 persone sono entrate nel Parco attraverso la Valle di Rabbi lasciando la propria auto parcheggiata e salendo a piedi oppure utilizzando il servizio di bus navetta. 18.000 per la precisione le auto lasciate in sosta all'ingresso della Valle di Rabbi. 43.600 le persone che si sono incamminate dopo aver parcheggiato l'auto nelle piazzole adibite e 27.700 quelle che hanno scelto di salire a bordo dei pullman del servizio pubblico. Ha autobus che hanno garantito un costante collegamento fra i parcheggi ed i punti panoramici o emozionali della Valle ogni 15 minuti. Più di 83.000 persone hanno potuto provare il brivido del ponte sospeso sul torrente Ragaiolo, mentre 43.000 persone hanno raggiunto il fascino delle cascate del Saent. Numeri in crescita e questo ha permesso, a distanza di qualche mese, di capire che la proposta di un collegamento alternativo con le località più ricercate funziona. Il dover abbandonare la propria macchina non è un impedimento al flusso dei turisti, evidentemente se vengono proposte delle soluzioni alternative, come è stato appunto lo Stelvio Bus. Va poi evidenziato come il maggior flusso di utenti contribuisca al sostegno del servizio. I costi dei bus navetta sono stati coperti per più dell'81% dal pagamento dei ticket di viaggio, qualcosa come più di 100.000 euro complessivi raccolti, e dalla sosta delle auto nei parcheggi che erano a pagamento, 34.000 euro in totale. In media l'organizzazione del parco ha gestito qualcosa come 500 auto ogni giorno, arrivando a toccare i 900 veicoli nel giorno di Ferragosto. Mentre lo scorso anno la Val di Rabia era caratterizzata da un traffico esagerato, quest'anno la Val di Rabia si è caratterizzata proprio dalla presenza di folle di persone che si muovevano a piedi. E questo è un dato molto importante che abbiamo potuto misurare alle cascate del Seente, dove c'è stato un aumento in agosto del 21% di passaggi rispetto allo scorso anno.